Il sipario del teatro Regina Margherita di Caltanissetta si aprirà domenica prossima, 13 novembre, alle 18.30 con Don Gesualdo, lo spettacolo teatrale con Alessandro Sparacino, Rita Abela, scritto e diretto da Lorenzo Muscoso, con le musiche di Riccardo Gerbino. La pièce teatrale racconta dell'uomo Don Gesualdo, dei suoi rapporti sociali, delle condizioni, della sua vita, del suo paese, delle sue relazioni. La scrittura di questo testo viene dal cuore, perché comunque, essendo anche io un cittadino del Berge, ho cercato di scrivere questo testo pensando come lui avesse visto questa storia, ma andando anche con l'intimità e con la profondità del personaggio. Diciamo che è una storia anche un po' diversa da quella che sono state rappresentate fino adesso, perché il personaggio focalizza l'attenzione su quelle che sono le relazioni familiari, le relazioni di Don Gesualdo con quelle che sono state le donne della sua vita, quindi in questo caso Bianca Trao, Diodata e Lafie Isabella. Quindi un rapporto più intimo, che Berge in realtà lo fa, lo racconta, però non in questo modo. Ho cercato di trasformare i personaggi, dando una coscienza, una maturazione che avviene anche in chiave ameletica. Lo spettacolo fa parte di Berge Cento, la manifestazione ufficiale nazionale del centenario di Giovanni Berga, prodotta dalla Dream World Pictures, supportata dal Parlamento Europeo, Rai Cultura e Pontificio Consiglio della Cultura. Gli studenti fino ai 18 anni potranno assistere allo spettacolo gratuitamente.